Giuseppe Bracalenti, a vedere questi disegni c'è una bella speranza per il futuro della tifoseria taramana? Assolutamente, per noi era questo l'obiettivo e questo rimarrà sempre l'obiettivo, coinvolgere i più piccoli nei messaggi di passione per la squadra della propria città, di tifo sano, corretto e di tutte quelle manifestazioni che appunto portano a sdoganare un attimino il tifo uguale violenza. Non è così, il tifo è anche in grado di offrire messaggi positivi, questi bambini con il loro animo nobile sono riusciti a farlo. Per noi il tifo e il sociale devono andare per forza di pari passo, come un'associazione come la nostra, come il club che ha 50 anni di vita, quindi una delle più longeve della provincia, quindi è un dovere, è un dovere farlo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, con queste iniziative e anche grazie alla collaborazione dell'Unicef che è un'organizzazione mondiale. Un'iniziativa che avvicina i più piccoli anche al mondo del calcio in maniera sana. Assolutamente, vuole essere un modo per avvicinare appunto i bambini allo sport e al calcio in particolare in questo momento, dove attraverso i disegni è stato pure un modo di rappresentare quelle che sono le loro sensazioni, come intendono il calcio, come lo immaginano e quindi qui oggi proprio a rappresentare la bontà, non solo di quello che si è fatto in termini di opere da parte dei bambini, ma anche per i messaggi che passano dai singoli disegni. Una sinergia che è partita con il club Bianco Rosso un po' di tempo fa e devo dire si consolida nel tempo e questo ci fa piacere perché significa che condividiamo assolutamente quelle che sono delle linee guida e poi nel premiare quello che è il calciatore dell'anno, Bianco Rosso, quindi il capitano Arrigoni. Ed è un bel momento perché, dico sempre, questi sono momenti in cui i bambini possono focalizzare e tenere un ricordo nel tempo, il loro disegno, il capitano della loro squadra, il momento di premiazione, che possa essere insieme a tutti i diritti, perché qui oltre ai disegni sono esposti anche i diritti dell'Unice, fu un momento per ricordare che veramente dobbiamo rispettare i diritti di tutti i bambini ma nello stesso tempo far sì che ogni singolo bambino possa conoscerli e viverli al meglio, nel rispetto ovviamente di tutte le persone.